La funzione monotona La funzione F da E a valori in R E è un sottinsieme di R Allora si dice F si dice monotona Accendolo all'ultima O Abbiamo 4 tipi di monotonia Strettamente crescente Se solo se per definizione X1 minore di X2 Implica F di X1 minore di F di X2 Per ogni X1 Cioè mi metto in E Prendo due punti Se mi sposto verso destra La funzione cresce Debolmente crescente Debolmente crescente Strettamente significa minore stretto Debolmente significa minore uguale Invece che è debolmente crescente Posso anche dire non decrescente La stessa cosa Ovviamente se dico crescente Non si capisce se è questa o questa Io preferisco perciò non usare mai Perché a seconda dei testi Qualche testo mette crescente questa Qualche testo mette crescente questa Siccome è libero Per non usare due aggettivi Mette una strettamente crescente E l'altra crescente Oppure mette una crescente E l'altra debolmente crescente Però a seconda dei testi Questo varia Quindi io preferisco Usare una terminologia non ambigua Altrettanto possiamo avere Una funzione strettamente decrescente Debolmente decrescente Possiamo anche dire non crescente E qua non decrescente Senso se per definizione Sum maggiore x I e Sempre in e Ora vediamo un po' Se io prendo La funzione 1 su x Esempio F di x E' uguale 1 su x E x appartenente a r-z Mi sapreste dire Se questa funzione E' crescente E' ovviamente crescente Com'è? La domanda è Quale di questi quattro tipi è? Risposta è? Nessuno Nessuno perché Se mi sposto da qui a qui La funzione scende Ma se mi sposto da qui a qui La funzione sale Adesso andiamo a prendere però Come dominio prendiamo 0 più infinito Significa che prendiamo 0 più infinito Dobbiamo cancellare questo pezzo In chiaro che la funzione è solo questa Stavolta la funzione com'è? E' monotona o no? Sì Se x1 e x2 sono positivi Più il grande x più il reciproco è piccolo Quindi è monotona Stavolta Chiaro? Questa è la definizione di funzione monotona Poi dobbiamo dare Anche Un'altra definizione Prendiamo x con 0 Punto di accumulazione Diciamo per e Intersecato Meno infinito x con 0 Cioè Togliamo Qua abbiamo x con 0 Qui abbiamo i punti di e x con 0 è un punto di accumulazione Però noi andiamo a prendere tutti i punti di e Prendiamo soltanto quelli di e Che stanno a sinistra x con 0 Allora si chiama Limite De x Che tende a x con 0 Da sinistra Di f di x Uguale Il limite X appartenente a i Questo qua lo chiamiamo Es Perché è la parte che sta a sinistra Es di x con 0 Anzi E L Voglio usare le terminologie in inglese L sta per l'f Limite Per x Che tende a x con 0 Ma x appartiene a E L Di alcuni di x Lo posso fare Tutti e due Questi lì Posso fare sia il limite E provare a fare Sia il limite in e Sia il limite in e l Perché Se è un punto di accumulazione Per L È un punto di accumulazione Anche per E Tuttavia Il limite sinistro Si intende Il limite per x Che tende a x con 0 Dalla parte sinistra Cioè in L Questo limite è uguale E' uguale a M Se solo se per definizione Per ogni ε maggiore di 0 Esiste un delta maggiore di 0 Tale che x appartenenti a e x compreso tra x con 0 meno 10 e x con 0 più 10 Quindi applicare Quindi applicare se vi ricordate Allora x con 0 abbiamo preso un punto di accumulazione Quindi nei punti di accumulazione Diciamo Il limite Si può fare E come si faceva? Si faceva x compreso tra x con 0 meno 10 e x con 0 più 10 x diverso tra x con 0 x appartenenti a e Stavolta Siccome mi devo avvicinare Solo dalla parte sinistra Per ogni ε Esiste un delta tale Che se x è compreso tra x con 0 meno 10 e x con 0 x diverso da x con 0 Non c'è più bisogno Perché è minore di x con 0 Quindi è diverso da x con 0 E x appartenenti a e In queste condizioni Deve f di x meno m Questo è il limite sinistro E mai Diciamo La cosa più Che si capisce meglio È questa scrittura qua Perché è come quella del limite di funzione Soltanto da una parte sinistra Se no Qua state scrivendo Solo dalla parte sinistra Però diciamo Poi se lo dovete scrivere esplicitamente Comunque scrivete Ovviamente Se lo faccio dalla parte destra Cosa cambia? Qua ci avremo Che ne so X con 0 più infinito X con 0 più infinito Questo lo chiamiamo E con R Il limite Lo chiamiamo limite destro Quello che cambia Qua sarà x compreso tra x con 0 E x con 0 più infinito Allora Allora In vari casi Posso fare il limite Quotarsi che posso fare il limite Solo da sinistra Questo nel caso in cui E stava Se questo Coincide con E Il limite lo potevo fare Solo da destra Se quello di prima Coincideva con E Il limite lo potevo fare Solo da sinistra E l'altro era vuoto Se E sta solo a sinistra Per esempio Prendete l'intervallo 0,1 Prendete 0 Nel punto 0 Il limite ce lo posso fare Da sinistra? No Perché quando prendo L'intervallo 0,1 E in terza con la semiretta Meno infinito 0 Aperta Mi viene vuoto Invece Quindi per esempio Se prendo l'intervallo 0,1 Qua Allora In un punto intermedio Il limite lo posso fare Da destra e da sinistra In 0 lo posso fare Solo da destra In 1 lo posso fare Solo da sinistra Ora che succede? Quando Prendiamo un punto Dove posso fare il limite Sia da destra Che da sinistra E chiamiamolo x con 0 Secondo voi Quando è che esiste Il limite in questo punto? Affinché esista Diciamo Il limite Per x Che tende a x con 0 Di f di x E' uguale a L Se e' solo se Il limite Per x Che tende a x con 0 Da sinistra Di f di x E' uguale al limite Per x Che tende a x con 0 Da destra Di f di x Che fa L Cioè Se io posso fare il limite Sia da sinistra Che da destra Il limite farà 3 Quando i due limiti Coincidono E fare tutte e due 3 Questo è banale Lo fate per esercizio Basta scrivere tutte e due Le definizioni Mettere insieme E ottenere il limite Perché quando Con linee da destra Ho questa Con linee da sinistra Ho quell'altra Per x compreso da x con 0 Meno delta x con 0 Lo metto insieme a te Ottengo x compreso da x con 0 Meno delta x con 0 Meno delta x con 0 Meno delta x con 0 Diverso da x con 0 Ok? Se invece il limite lo posso fare Se invece il limite lo posso fare da una parte sola Quello è già il limite Supponendo che esiste Se il limite lo posso Allora se il limite in 0 va a 3 Anche da destra Anche il limite in 0 va a 3 E basta Del limite in 0 è qui da destra Quindi qua non ritengo di dover scrivere alcun che Perché è tutto diciamo Corrisponde perfettamente all'intuizione Cioè Se io in un punto posso fare il limite Sia da sinistra che da destra Il limite quant'è che esiste? Quando i due limiti coincidono Se uno dei due non esiste Il limite in generale non esiste Se i due limiti sono diversi Il limite non esiste Se da sinistra tende a 3 Da destra tende a 5 Il limite non c'è Però possono esistere I limiti sinistra e destra Possono fare 3 e 5 Chiaro? A vicerezza Se il limite fa 7 In quel punto Il limite da sinistra deve fare 7 Il limite da destra deve fare 7 Ok? Fate queste dovute premesse Adesso andiamo a vedere Che succede con la funzione monotona Allora Supponiamo F Da E a valori in R Monotona Monotona Debolmente crescente Ovviamente un teorema analogo Si potrà dimostrare per le funzioni monotona Debolmente crescente Allora Supponiamo che x con 0 Sia appartenente ad E E X con 0 Sia Di Accumulazione Per E È Accumulare per l' skoggi in tal caso qual è la tesi? se si può fare il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x tale limite si può fare nel senso che è di accumulazione anche per eL no perché allora per esempio se E sta tutto a destra e L mi viene vuoto tale limite esiste e inoltre il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è uguale all'estremo superiore per x appartenente ad eL di f di x si può fare quindi x con 0 è di accumulazione per eL uguale e intersecato meno finito x con 0 che è minore o uguale di f di x se invece si può fare uno dei due si può fare sicuramente il limite perché x con 0 è di accumulazione per eL magari si può fare il titolo ma grazie a voi sono vare il titolo non 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 insomma mettiamo per non perdere la bussola mettetevi nel caso più semplice in cui si possono fare sia il limite sinistro che il limite destro allora dovrete avere che il limite sinistro è uguale all'estremo superiore fatto su tutti i punti che stanno a sinistra comunque non supera il valore della funzione il limite destro è uguale all'estremo inferiore comunque è maggiore o uguale al valore della funzione cioè una funzione monotona in un punto ha un limite sinistro ha un limite destro ce li ha perché oggetto esiste e il volo della funzione del punto sta qua in mezzo però fate attenzione alle ipotesi quindi le ipotesi sono che i limiti si possono fare se si possono fare esistono si possono provare a fare e poi anche x con zero deve essere un punto di non solo ma un punto di del limite se no poi il valore della funzione è qua non ci sta chiaro? prendete questa funzione qua allora la funzione vale x quadro tra meno 1 e 1 poi nel punto 1 e meno 1 anzi scusate x quadro tra 0 e 1 però 1 è scuso nel punto 1 la funzione vale 2 questa funzione è monotona? certo! è crescente nel punto 1 vale 2 nel punto 1 posso fare il limite da sinistra la funzione è del meno 1 quello della funzione del punto vale 2 contraddice il teorema? no! lo posso fare solo da sinistra la funzione è della crescente ok? quindi questa è la situazione che riguarda le funzioni monotone adesso la dimostriamo ma prima di dimostrarla è in questo caso una funzione monotona quanto che è? quanto può essere che è discontinuo? in x con 0 in x con 0 si può andare a verificare se è continuo o no perchè il valore è scuso da un punto di e quant'è che è discontinuo in x con 0? c'è una sola possibili quando i limiti sinistra e destro sono diversi perchè? se i limiti sinistra e destro sono uguali abbiamo detto che il valore della funzione sta in mezzo e quindi il limite a destro è uguale al limite sinistra sono uguali al limite e il valore della funzione è uguale al valore del limite se invece sono diversi il limite a sinistra è il migliore del limite a destra stiamo parlando di funzioni del momento di crescente che succede? e qua x con 0 il valore della funzione di x con 0 prima di tutto non lo posso mettere uguale a tutti e due ma secondo il limite della funzione di x con 0 non esiste perchè da sinistra e da destra sono diversi quindi la funzione non può essere continua questo tipo di discontinuità la chiameremo discontinuità assalto la discontinuità assalto avviene quando il limite sinistro è diverso dal limite destro ma c'è f di x con 0 perchè se no se vi ricordate la funzione 1 su x era assalto pure questa qua qua il limite sinistro fa meno infinito il limite destro fa più v in qualche modo potremmo considerare l'assalto anche se i limiti non sono finiti però il punto è che se ci metto 0 nel dominio la funzione è discontinuita se non ci metto 0 nel dominio la funzione non è discontinuita perchè non devo significarla quindi stiamo parlando sempre di un punto del dominio allora se hai una funzione monotona il limite sinistro e il limite destro non coincidono in questo caso la funzione saliva quindi così se la funzione scendeva i limiti erano così se non coincidono allora la funzione è discontinuita perchè il punto il valore di f è discontinuita non può coincidere ovviamente con tutti e due è solo se perchè se invece coincidevano allora il valore della funzione stava in mezzo e quindi era 1 quindi praticamente le funzioni monotone possono avere il corollario di questa cosa è che le funzioni monotone possono avere solo discontinuita assalto è chiaro? le funzioni monotone queste cose le ripeterete ma non è che però uno se lo comincia a mettere da parte una funzione monotona può avere solo una discontinuita assalto ok? vedremo noi non oggi ma domani che facciamo esercizi cominciamo a vedere un po' di discontinuità e le classifichiamo in tre tipi discontinuità eliminabile discontinuità assalto e discontinuità essenziale domani vediamo specificamente questi tre tipi non voglio sentire prima specie seconda specie e terza specie li empiccico vicino al mondo ma pure se ci fosse sul libro di test non va allora se qualcuno mi dice prima specie seconda specie e terza specie la prima cosa che gli chiedo gli chiedo tutte le specie prima, seconda e terza sbaglia qualcosa nella definizione dopo di che cioè è una cosa proprio che va contro ogni senso logico prima di tutto prima di tutto bisognerebbe che tutti i libri classifichino vabbè la prima specie quasi tutti gli dicono che è quella eliminata la seconda specie è quella assalto la terza specie quella essenziale però basta un testo al mondo che per mutilio l'ordine delle specie pure andate in mutilio ci sarà un testo di matematica che metterà classificherà l'ordine delle specie di scondività in maniera diversa forse sì quindi ma in ogni caso quando voi dite prima specie è una cosa tautologica perchè poi dovete definire cos'è la prima specie cos'è la seconda specie cos'è la terza specie se non me lo ricordate invece è così semplice la scondività è eliminabile che significa che il limite ci sta ed è diverso la parola del più scondività assalto che vuol dire che il limite sinistro è diverso dal limite destro è il valore che il punto può fare quello che gli pare ma non può essere uguale scondività essenziale che vuol dire scondività essenziale vuol dire che il limite non ci sta almeno da una parte e quindi il limite complessivo non ci deve essere chiaro? invece il numero della funzione è il punto ci deve essere questo vuol dire vuol raddire l'espondività essenziale l'espondività assalto l'espondività eliminata cioè è una cosa così semplice non va complicata dove non è necessario ok adesso torniamo alle nostre funzioni monotone andiamo cioè a dimostrare questo che abbiamo appena scritto allo l'uscitazione quindi allo alo per semplicità suppongo x con 0 di accumulazione sia per L che per R R per R no? ci sono L e L e gli ho scritti qua cioè così posso fare tutti e due i rini ovviamente se non è così il ragionamento lo fate soltanto dalla parte dove lo potete fare quindi non cambia niente cioè negli altri casi si fa solo una parte del ragionamento che sto per fare adesso allora dico che il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è uguale all'estremo superiore per x appartenente ad L di f di x è uguale a questo estremo superiore questo qua lo chiamiamo lambda v questo vuol dire va bene ok questo lo sappiamo poi adesso diciamo sia epsilon maggiore di 0 lambda meno epsilon non è di f di x diciamo è minore di lambda che è l'estremo superiore x appartenente è f di x l'estremo superiore è il minimo dei maggioranti quindi questo qua è più piccolo quindi non è un maggiorante quindi esiste un delta positivo tale che x con 0 meno delta appartiene a L e f di x con 0 meno delta è maggiore lo scrivo qua f di x con 0 meno delta è maggiore di lambda meno x è minore di lambda cioè quando un numero non è un maggiorante di un insieme ci deve stare un elemento dell'insieme cioè un elemento i e con l tale che il valore della funzione è più o più di lambda meno delta ma un elemento di e con l lo potrò scrivere come x con 0 meno delta che sta a sinistra qua c'è x con 0 il secondo elemento sta in e con l sarà x con 0 meno qualche cosa questo qualche cosa lo chiamo delta adesso andiamo a vedere se x è compreso tra x con 0 meno delta e x con 0 questo che vuol dire vuol dire che f di x è compreso tra lambda e f di x con 0 meno delta che per la sua volta è la maggiore di lambda meno epsilon ovviamente x deve stare meno cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto che il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è uguale a lambda piccolo questa l'avevo scritta per evidenziare il fatto che il limite quando lo andremo a fare non può superare lambda piccolo però qua invece si capisce che quel limite se prendete andate a ricadere la definizione di limite alla sinistra per ogni x esiste un delta tale che se x è compreso f di x è compreso tra lambda meno x e lambda più epsilon e lambda e lambda più epsilon in questo caso f di x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda più epsilon cioè la definizione di limite mi basta questa disuguaglianza io ce l'ho una migliore in realtà posso scrivere siccome questo me lo dimentico f di x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda siccome la funzione sta crescendo il limite da sinistra fa lambda da sotto cioè è chiaro? ciò di meglio similmente analogamente il limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x è uguale all'estremo inferiore su e con f di f di x è uguale a lambda grande da destra lo riscrivo di qua questo è uguale a lambda grande da destra nel senso che come numero questo è uguale a l'inf che è uguale a l'an poi quando parlo di limite il limite da destra è uguale a lambda da sopra cioè quando andrete a dimostrare la disuguaglianza che lo fate dalla parte destra voi avrete che per ogni epsilon esiste un delta tale che se x è compreso tra x con 0 e x con 0 più delta allora f di x sarà compreso tra lambda o qua c'è a minore uguale e qua c'è minore anche qua c'è maggiore uguale perché la funzione era regolmente crescente ma non cambia niente ok compreso tra lambda e lambda meno ex e qua sarà compreso tra lambda e lambda quindi quando lo fate da destra il limite sull'onda grande ci arriva da sopra siccome l'onda grande è più grande di l'onda piccolo abbiamo il limite da destra o anzi l'onda grande è più grande di f di x con 0 che è più grande di l'onda piccolo e qua lo dico f di x con 0 è minore di tutti gli f di x che stanno a destra e x che stanno a destra quindi chiaramente è minore o uguale che è l'esterno inferiore di questo f di x con 0 è maggiore o uguale di tutti gli f di x per x che stanno a sinistra quindi è maggiore o uguale dell'esterno inferiore mettendo insieme tutte queste informazioni possiamo dire che il terreno è concluso quindi che succede? se una funzione cresce sia pure debolmente se in un punto del dominio posso fare il limite sia da sinistra che da destra il limite mettiamo che il limite da sinistra faccia 3 e il limite da destra faccia 5 che so che il limite cosa so? che il limite da sinistra ci arriva a 3 da sopra il limite da destra ci arriva a 5 da sopra e so anche che il valore della funzione dell'inmezzo deve essere compreso tra 3 e c chiaro? se il limite da sinistra coincide con il limite da destra e la funzione è definita in quel punto in quel punto deve essere per forza così se invece i due limiti non sono coincidenti ed esistono entrambi la funzione deve essere in quel punto per forza disponibile se in quel punto supponiamo per esempio una funzione definita su 0,1 crescente strettamente crescente il limite in 1 da sinistra fa 3 la funzione è continua? dipende se f di 1 fa 3 sì se f di 1 è maggiore di 3 no perché stavolta non avete cioè potete fare solo da sinistra quindi il limite da sinistra sapete che fa 3 sembra la funzione del punto fa 3 ecco sembra la funzione per esempio la funzione può fare può avere un grafico che fa così arriva così e poi c'è un salto solo potrebbe fare in quel caso è visto quindi allora questo teorema è uno di quei teoremi che si capisce meglio di come si riesca a scrivere perché dice cose piuttosto semplici però quando uno le scrive deve per forza diciamo scrivere un po' di dettagli sostanzialmente vi sta dicendo che le funzioni monotone possono avere solo un tipo di scontività che poi chiamerebbe molto scontività assalto cioè il limite da sinistra è diverso dal limite da sinistra la funzione se sta salendo viene sinistra è più basso quindi la resta è più alta e la funzione non può valere tutto il tempo va bene?